Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, oggi siamo di nuovo su Minecraft Ita per un episodio natalizio Bene, eccoci qua, allora, la prima cosa che devo farvi vedere è la casa, ho fatto altri abbellimenti, diciamo Ho tentato di migliorare un po' la casa, che non so proprio come fare, l'ho allargata, un po' ho fatto questa sottospecie terrazza In cui andrò a mettere forse degli altri pupazzi di neve, belli E allora, oggi come episodio natalizio cosa andiamo a fare? Andiamo a crearci un albero di Natale Esatto, esatto, esatto Allora, ho fatto delle prove con il Dark Walk, ma viene veramente male, con lo Spruce Non... Spruce? Sì, dai, è più bello con lo Spruce, sinceramente Forse viene anche meglio Prendiamoci il Bon Mill del caso e andiamoci a metterlo Pensavo di farlo qua, qui, ok Prendiamoci il Bon Mill e facciamo crescere quest'albero Perfetto Forse è un po' troppo piccolo, nel senso se io facessi... Vabbè, proviamo a fare una cosa, eh Ad abbatterlo, se io, non so se lo mettendolo a 4 nasce qualcosa, vediamo, eh Fammi togliere tutto, intanto Dammi della Copleston, va bene uguale Fammi salire un attimo, fammi salire E vediamo Ok, niente, voglio prendermi qualche sapling per provare a farlo crescere a 4 Ok? Quindi, adesso mi dovresti dare un paio di sapling, cortesemente Tu vieni qua, mi dai un paio di sapling, sono contento Spaccandole a mano dice che la probabilità, insomma, una leggenda è Che ci sia meno probabilità di raccogliere sapling Però io non voglio rischiare E non sto prendendo nulla Guarda che mi incazzola Ah, veramente tanto Dai, un sapling me lo devi dare Almeno uno, quello che ci ho investito Perché ti picchio Ti picchio, ti faccio male Tanto male Ma male, male Va bene, non ti guardo Rivengo tra poco, eh Tu mi fai trovare nel menù dei sapling E quindi Cosa altro devo dirvi? Niente, la casa, beh Vi faccio vedere da sopra Ho fatto anche un'altra cosa Ho tolto le librerie da lì perché non mi piacevano Ho spawnato il ragno E il mio golem l'ha ucciso Non deve spawnare gente qua, boia Comunque ho messo le librerie, alcune librerie lì Qui ho fatto il secondo piano Eccolo qua Apri qui E qui c'è tutto questo corridoio lungo Adesso provvederò a metterci un soffitto E qui lascerò Un sapling E lì lascerò aperto probabilmente No, ho visto male Sembrava ci fosse un sapling Dai mi sto Eccolo qua, uno, bravissimo Adesso me ne dai un altro E siamo a posto Dai Dammelo un altro, su Forza Paura Dai, io ci provo, eh Uno Dai, non chiedo tanto Un sapling, Cristo Sembra di no Sembra che non ne voglio Ah, eccolo qua È perfetto Cinque Allora siamo a posto Cosa vuoi di più della vita? Vabbè, tu ti spawnerai da sola Io provo a farlo da Da quattro ore Non so se sia possibile Sinceramente Però io ci provo uguale Sì 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 Semi garba quest'albero Quanto è figo È enorme È fottutamente enorme Ok Ora Parte 2 Cosa ci andiamo a mettere sotto? Mi servono colori accesi Quindi Quarzo 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 Che altro posso prendere? Quarzo Qui Lapislazzuli Oro Redstone Penso siamo a posto Non ho lana Di vario colore Quindi mi devo arrangiare Con questa È per forza Non ho altre possibilità Poi ci andremo a mettere Un bordello di luci E saremo E siamo a posto Comunque Sciarza la mano Perché me ne Mi serviranno Sicuramente Iniziamo Ad approdare qua E mettere i primi regali Qua ad avvelire il nostro albero Tipo a mettere Qualche Un blocco di lapislazzuli Qua Uno qui Dammi tutti Guarda Fai una cosa Ecco Mi metti tutti qua E io sono felice Sì Va bene così Un blocco di redstone qui L'oro lo mettiamo più in alto Lo metteremo più in alto L'oro Sì adesso facciamo un primo giro Quarzo Quarzo No qui ci mettiamo questo Poi ci mettiamo un altro blocco di redstone qui Uno di quarzo qua Ancora redstone Lapislazzuli No lì perché ci sono vicini lapislazuli Vabbè un lapislazzulo qua ce lo possiamo mettere Qua lo mettiamo Qui così E qui ci mettiamo un altro blocco di redstone Ok Ora saliamo un altro po' Vai Fammi salire Ok E fammi arrivare qua sopra Ok E ci mettiamo un paio di lapislazzuli Uno qui che si veda Bene carino Uno Un blocco di redstone qua Hop Qua sopra Lapislazzuli Lì Un blocco così Ok Dai Forse è venuto abbastanza carino Devo vedere l'effetto finale come sarà Non Non parlo Prima di non averlo visto Ecco Qui ci mettiamo Un blocco di D'oro Si deve vedere Lo metto qua eh però Eccolo Lì l'oro si deve vedere bene Qui ci mettiamo Redstone Qui infine Lapislazzuli No Lapislazzuli Già ne abbiamo messi troppi Dammelo Dammi il blocco Bravissimo E cosa ci mettiamo Cosa ci mettiamo? Ci mettiamo questo Un blocco di redstone Fammi salire un altro po' Ho sprecato più materiali io per fare quest'albero che non si sa però Qui ci mettiamo un blocco d'oro Qua Qui ci mettiamo un pezzo di redstone Così Qua dietro Quarzo Quarzo a bestia Quindi quarzo qui e quarzo di qua Sì dai No No Eccolo là Va bene Senti adesso lo vado a vedere Velocemente Dimmi com'è Dimmi com'è Dimmi com'è Dimmi com'è Non è malissimo Bisogna riempirlo di più Unica cosa Lì è molto vuoto Quindi lo andremo a riempire E non mi sta dispiacendo Più che altro Poi ci andremo a mettere tutte le torce del caso Tipo Ok Mi metti qua un blocco di Qui ci metti un blocco di redstone Qua sopra O un blocco di lapislazuli Anche più figo E E mi sta piacendo E mi sta piacendo notevolmente Poi mi togli questo Grazie Mi togli anche questo Mi vai dall'altra parte a togliere L'altra terra che c'è in eccesso Dov'è la terra? Lì sopra Madonna Ah in alto Ok Troppo in alto Ok Mi la togli così Grazie Mi togli anche questo Riscendiamo velocemente Ci togliamo anche questo blocco Torniamo di qua Dobbiamo togliere tutto questo ammasso Di terra Bruttissimo Bestiacce che inizieranno a spawnare Da un momento all'altro Ma A noi poco ci interessa Rompimi questo Grazie Velocemente Perfetto Fammi raccogliere tutta la terra E vediamo adesso come si presenta Il tutto Beh non è male Non è malissimo C'è da mettere ancora un po' di roba E vorrei Mi serve un altro colore Il nero Per forza Blocchi di carbone Ne prendiamo un po' Eccoli qua Non so più che altro Metterci perché Sinceramente Colori accesi Io non ne ho più Eh no Fammi vedere la cassa Ma Poca roba penso Colori accesi Lana Bianca Ma Il quarzo è più bianco Questo è giallo Ma c'è Niente Niente Vado a mettere qualche blocco di qua Di Qualche blocco di coal E poi Cosa altra andiamo a fare Adesso devo farmi Qualche lanterna Adesso facciamo una cosa abbastanza rischiosa Quattro semi di zucca E ci facciamo Sette lanterne Lo faccio? Ne faccio sei per ora E poi Questi altri semi Vabbè Quattro Ma no dai Ce la faccio Rischiamo Vai E mi metterò a piantare sicuramente Adesso mi metto a farmare un po' di zucche Mi faccio una farmina Quella proprio Full Full manuale Per forza no Perché se no Non c'è possibilità E adesso mi metti Un po' di nero qua Mi metti qui il nero Qui Lì mi metti Un po' di rosso Grazie Lo vedevo un po' vuoto Questa parte La vedevo un po' vuota La bisogna riempio Qui ci mettiamo un po' Di bianco Oh Sì Bene Adesso iniziamo anche a mettere però Le jack o lantern Quindi Terra alla mano Anche questa dammi Oggi Episodio proprio natalizio Soltanto C'è anche la neve Cosa vuoi di più dalla vita Madonna Vabbè Adesso questo Lo mettiamo qua Fammi fare una cosa Dammi la accetta Fammelo mettere qui Bravissimo Jack o lantern E le foglie Ce le avevo Ce le avevo Le foglie Ce le avevo Ce le avevo Questo che rumore è No non è È uno zombie pigman Mi ha spawnato un pigman Mister zombie Va bene Devo andarmi a prendere Fammi scendere Da pro parkour Mamma mia Devo fare i parkour Per fasa No sono un fenomeno Ok fammi prendere questi Dammi 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 le foglie Eccole qua Sono dark walk leads Guarda fotosega Vanno bene uguale Vanno bene uguale Fammi riprendere tutto Vediamo quanto si vede bene Eh si vede che è illuminato Però non potete dire nulla Ne mettiamo una qua Aspettate Eh Eh Caffone Mori male Grazie Devo fare una Una piccola modifica Tipo così Rompere quello Rompere quello E andarci a mettere Lì sopra la lanterna Ok Riprendermi le walk leads Che tanto non si vede Che sono walk leads Per niente sono uguali Sì no Cambia la texture Cazzo è vero Va bene So come risolvere Posso risolvere Alla grande Mi serve un pezzo di terra Qua poi metterò a posto Tutto dopo Dammi qua questo Mi dai il buon meal Che già ho Dai No quanto voglia Vacca qui non cresce Mettiamocelo più qua Dai Qui Ti metto qua Dammi qualche altro Pezzo di buon meal Bam Adesso crescerai Cresci Ok E bisogna alzare la voce No Questi alberi E sono così Se non alzi la voce Poi non Non ti danno retta Ti devi far sentire E per forza E per forza così Spruslitz Eccoli da me Dammi il più possibile 20 Vanno bene 20 Mi accontento Insomma Torniamo qua E andiamo a rompere questi Uno E due Prendiamo anche questa Già che ci siamo Ok Ne abbiamo messe Già un paio Un paio Ecco qua Qua sotto Lo stesso Noi ci andiamo a mettere Qualche pacco regalo Tipo uno Così Io Sto sprecando redstone A manetta Non lo so Come faccio Per quale losco motivo Io metto Questa redstone Così con questa tranquillità Qua sotto Ancora lo devo capire Però Ognuno poi fa Ok Mettiamoci questo nastro Un nastro Un nastro Si capisce che è un nastro Se ci metto quest'altro Si vede che è un nastro Ci vuole rompere la redstone Non è boia Non male Adesso ne facciamo uno alto Con il quarzo Dammi il quarzo Ne mettiamo uno qua alto Lo facciamo Due Tre Qui così lo mettiamo Ok Ci mettiamo sempre No la carta Questa volta Ecco Mettiamo di questo colore Lo alziamo sempre Di due Lo facciamo alto Ho finito il quarzo Devo andarmela a riprendere E questo lo terremo un po' qua Poi se non vi piace Perché non so Come valutarlo Sinceramente Questo albero di Natale Troppo poco alto Soprattutto questo pacco regalo E troppo stretto Non mi piace Vediamo eh Fammi prendere questo Dai Fammi salire ora Hop Sì Bene Rompi questo Perché non mi piace E mi fai un altro pezzo In su Ok Buono Adesso Risaliamo un altro po' Ci mettiamo qualche altra Jack o Lantern E siamo a posto Per l'albero di Natale 2014 Natale 2014 Sì sì è giusto Qui lo mettiamo Questo Dove mettere Allora Qua ne mettiamo una Perché È buio Non si vede nulla Dammi questo Dammi le Oak Leeds Bam Ah giusto Non me lo fai piazzare Perché sei un cane bastardo Tu Dimenticavo Dimenticavo Ok Qui ci siamo Passiamo in quest'altro lato Magari Ecco dove è un po' più buio Qua per esempio Mettiamo questo Questo Vabbè Questo può andare bene così Fammi togliere la terra Che è una cosa Oscena Là sotto Ci mettiamo Una Leeds Lo stesso facciamo di qua Tipo qua Ancora più interno Ma perché non mi c'è Mettere Leeds Un po' gli avacca Vabbè È uguale Così Ricopriamo il tutto Qua Questo possiamo anche Non ricoprirlo Ci mettiamo un pezzo Di carbone Ne mettiamo Un anche qui Di carbone Ok Qui ci mettiamo Questo Il carbone Poi lo andiamo a mettere Anche tipo Qua No qui no Magari Qua sotto Qui il carbone Sì Lì ci sta Non benissimo Ma neanche malissimo Andiamo a finire Di riempire un po' E siamo praticamente pronti Mettiamo uno qua Mi piace Non mi dispiace Non mi dispiace Ecco Mettiamola così Fammi riandare a prendere La terra in eccesso È stato un episodio Abbastanza Semplice questo Però dovevo farlo L'albero di Natale La passata stagione No non l'ho potuto fare La passata stagione Appunto perché Ancora A dicembre L'anno scorso Non avevo ancora aperto il canale E quest'anno Però l'albero di Natale Era d'obbligo Ci metteremo sopra Una bella scritta No 2014 Che scritta ci mettiamo sopra 2015 Voglia Bene Questo è l'albero di Natale Quel pacco regalo È di quarzo È qualcosa di usceno Fammelo togliere E abbiamo praticamente finito Fammelo togliere Grazie Rompiti Perfetto Ok Vediamo com'è venuto Non è malissimo Il pacco lo mettiamo dietro Il pacco regalo Questo Mettiamo qui dietro Tipo così Tac 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 Lo facciamo alto Un altro po' Così Perfetto No Non mi piace Perché è attaccato lì Si vede che è attaccato Fammelo rompere Grazie Lo mettiamo un po' più dietro Ecco Qua Così Tac Vediamo com'è Vediamo com'è Vediamo com'è Dovrebbe essere discreto Discreto Dai A me non dispiace Dai Ci facciamo un bello screenshot Secondo me Bam Screenshot Dai Dategli un voto A me non A me non dispiace A me non dispiace Bene ragazzi Per questo episodio è tutto Io vi ringrazio tantissimo Per la visione Spero che l'albero di Natale Vi sia piaciuto A me sinceramente Non è dispiaciuto Non mi dispiace Dai è carino Carinello Dategli un voto voi Insomma nei commenti Fatemi sapere Se vi è piaciuto o meno Vi ricordo che ieri è uscito il vlog In cui rispondo ad alcune domande Quindi se non l'avete visto Andatela a vedere Come al solito Vi ricordo di lasciare un commento Se avete qualche progetto A suggerirmi Perché in questi giorni Ci saranno iersi Episodi di Minecraftita Quindi tutti i giorni Se avete qualche idea Da propormi Fatelo tramite un commento Iscrivetevi al canale Se l'ho già fatto Condividete il video su Facebook Per farmi conoscere le nuove persone Noi ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti ragazzi